allora guardate adesso la differenza con le bottiglie dell'acqua monviso mettiamo i soliti quattro litri tanto il contenitore è da quattro litri guardate un attimo la differenza che abbiamo quello che riguarda la qualità dell'acqua allora ci siamo quasi separiamo quattro litri mettiamo giù di plastica ne facciamo tanta però per farvi vedere un po la base di partenza allora la bottiglia ce la dà nell'indicazione che stiamo intorno a 0 28 infatti siamo a 0 33 00 30 via 0 34 anche se sul contenitore della bottiglia c'è scritto che i microsiemens sono 0,28 ci siamo allora se voi vedete adesso togliamo prendiamo prendiamo il nostro congime noi ce ne mettiamo guardate la quantità molto maggiore però andiamo per dosi mettiamo un po mescoliamo questo è il 20 20 20 che abbiamo visto prima mescoliamo un po vediamo perché non tutti i tipi di congime hanno la stessa reazione il 20 20 20 con quella quantità raggiungiamo all'incirca ecco 383 quindi abbiamo la bellezza di quasi mezzo cucchiaino il cucchiaino mio è grande quindi leggiamo che vedete la quantità non è un cucchiaino da te di quelli piccolini però penso che qui abbiamo messo almeno tre grammi di congime siamo a 400 allora la differenza qual è di tutto questo video che abbiamo fatto e la quantità di congime che noi diamo quindi praticamente con l'acqua di partenza che noi abbiamo nella monviso abbiamo qua eccoli qua a 20 gradi micro simens e eccoli qua vediamo se riusciamo a inquadrarli 35 quindi abbiamo misurato noi 0,31 ci siamo via questi sono la conduggibile eccola qua il concetto conduggibilità elettrica specifica a 20 gradi siamo anche la stessa temperatura specifica conduggibilità a 20 gradi micro simens 35 ok qua misura 0,35 perché misura con millesimali diversi però siamo sempre questo è il simbolo che indicano i micro simens quindi ci siamo 0,35 o 35 misurati è sempre quello il concetto a seconda dello 0 a seconda della conversione che facciamo quindi ci siamo come quantità l'unica cosa che diamo molto più congime alle nostre piante rispetto a prima prima abbiamo dato solo tanta acqua e proprio una piccola spolverata di congime in questo caso qui abbiamo fornito la giusta quantità di congime ora questa quantità di con di acqua preparata 400 micro simens eccola qui piano piano si finisce di sciogliere quindi aspettate qualche secondo quando la preparate è vero che si diluisce prontamente però aspettate qualche secondo siamo a 409 questa qui la possiamo dare alle stesse piante che abbiamo detto prima lavanda ai gimbidium e alla mostera non ci sono problemi se no che la vogliamo utilizzare per le falenopsis può andar bene lo stesso per tutte le altre orchidee dobbiamo dimezzarla cioè aggiungendo altri 4 litri di monviso esattamente ritorneremo a una quantità di 200 quindi 4 litri a 400 micro simens e aggiungendo altri 4 litri d'acqua andiamo a 8 litri a 200 poco più micro simens e questo è tutto per quello che riguarda la misurazione dell'acqua di preparazione per la nostra congimazione quindi regolatevi qui abbiamo 400 micro simens e la possiamo utilizzare per radici un po' cicciottose che sono farenopsis vanda gimbidium e non ci sono problemi per tutte le altre dobbiamo diluire un po compresi pavio peri non possiamo scendere ancora di più questo è tutto per la congimazione per il nostro sistema di misurazione e di congimazione queste sono i residui delle bottiglie e questo è congime ricordatevi che il 20 20 riesce in un modo il 30 10 20 riesce in un altro quindi non utilizzate mai il cucchiaino perché ogni tipo di prodotto seconda se ha più azoto più fosforo o più potassio cambia completamente la riduzione quindi può darsi che un 30 10 20 in realtà quella quantità non è più 400 ma arriviamo chissà dove bene a presto grazie di avermi seguito